Il comune si costituirà parte civile accanto alla quattordicenne che nella serata di lunedì avrebbe subito una serie di molestie da un uomo di origini nigeriane in via Olevano a Battipaglia. Ad annunciarlo la sindaca Cecilia Francese, che ha anche respinto con forza l'ipotesi di un movente razziale dietro al gesto del quarantenne. Proseguono intanto le indagini per ricostruire i fatti in maniera dettagliata. La quattordicenne è stata interrogata in presenza dell'assistente sociale, mentre l'uomo si trova ancora nella casa circondariale di Forni a disposizione dell'autorità giudiziaria.